postazione dai dai all'attacco conquistate gli obiettivi postazione localizzata la postazione è nostra firebreak neutralizzato minaccia risonda postazione persa postazione conquistata nemico eliminato postazione localizzata postazione conquistata nemico a terra eliminato eliminato presa postazione C'è un po' di sottanza. Dimmi qua. C'è un po' di sottanza. 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 Uno in meno. Robot a terra. Spazio. C'è un po' di sottanza. 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 Presa. Spariamo. La stazione è colpita. Giu. La stazione è persa. È rovinato. La stazione è localizzata. I nemici hanno la postazione. La postazione è nostra. La postazione è colpita. Così non rispettate il patto. Litta d'assalto eliminata. Lita d'assalto eliminata. UAB in arrivo Postazione localizzata I nemici hanno la postazione Uno in me La postazione è nostra Minimizzazione contro Postazione d'azienda Siamo agli scordi Coraggio Postazione conquistata Postazione interna Firebreak neutralizzato La postazione è nostra UAB in arrivo Postazione contesa Postazione interna Unità d'assalto eliminata Postazione conquistata Postazione contesa Uno in me Postazione localizzata I nemici hanno conquistato la postazione La postazione è nostra Ordinate corpo combinante In arrivo La postazione è nostra UAB in arrivo La nostra fama Il miglior deterrente Bravi Obiettivi raggiunti Grazie a tutti Grazie a tutti